ariete è un periodo di novità e irrequietezza non vi manca il coraggio per intraprendere nuove avventure e adesso le configurazioni astrali vi rendono determinati e carichi di energie toro giornata dai toni irritati la visione delle cose è distorta e possono nascere insoddisfazioni in ambito sentimentale nei rapporti con il partner non esagerate con le compensazioni a tavola gemelli momento difficoltoso che vi vede isolati e con poca voglia di condivisione a dispetto della vostra natura sociale e charliera i programmi subiscono rallentamenti e inciampi dovete pazientare cancro la vostra natura sensibile in questo periodo viene molto sollecitata e ciò può provocare una tensione che dovete allentare con l'aiuto di soluzioni amorose che adesso fanno scintille leone leone la luna opposta oggi suscita un certo nervosismo e vi rende poco tolleranti soprattutto nelle relazioni con il partner con le persone che rivestono un ruolo affettivo cercate di non esigere troppo vergine il cielo astrale consente di trovare un buon equilibrio intimo di vivere ricercando il vostro benessere ma adesso arrivano momenti meno facili che richiedono un maggiore impegno a livello lavorativo economico bilancia irrequietti ma dinamici e motivati siete pronti a far valere le vostre opinioni senza ricorrere alla vostra maniera diplomatica bensì con modi molto più decisi e mirati sorprendendo gli altri scorpione state vivendo un periodo rilassato nel quale le competizioni i problemi ricevono un'attenzione minore se riuscite ad addolcire le vostre spigolosità avrete grandi soddisfazioni amorose sagittario sole mercurio e saturno sono in transito nel segno e arricchiscono il periodo con nuove energie e una visione meno irruenta e più razionale delle problematiche del momento capricorno il vostro io interiore rafforza l'esigenza di affermazione e crescono le ambizioni personali siete sulla strada giusta per ottenere buoni risultati ma non accumulate ansia acquario la luna di passaggio nel segno oggi vivacizza le emozioni siete solari e comunicativi le energie positive caratterizzano il momento anche se resta qualche insoddisfazione soprattutto in amore pesci la vostra indole rivolta all'idealismo e anche alla spiritualità viene esaltata ma cercate di non vivere in una atmosfera di perenne sogno ci sono cadute che a volte fanno male buone stelle